Carlo Acutis, la sua testimonianza attraverso la fede. Carlo Acutis è un giovane del nostro tempo, morto nel 2006 a soli 15 anni per una leucemia fulminante. Milanese di origine, ma approdato ad Assisi per motivi ideali, frequentava la nostra città perché con la famiglia veniva spesso. Un giovane che ha vissuto interamente questa sua breve vita, era un genio dell'informatica. Ma in tutto questo ha messo il pensiero di Dio, ha trovato il senso della vita nella fede. Qual è il rapporto tra Carlo Acutis e San Francesco? Carlo veniva qui per mettersi sulle urme di San Francesco perché Francesco parla in modo speciale ai giovani e ai giovani di oggi.